Il tuo modo di essere al centro dell'attenzione «Beh amico mio, in un certo senso ci sei riuscito, hai smosso televisioni, giornali e addirittura il capo della polizia. Stavolta hai veramente esagerato. Sappi che mi manchi tanto e anche se te l'ho detto in poche occasioni ricordati che ti vuole un bene immenso. Una volta un uomo mi disse che l'errore peggiore che si possa fare è quello di credere di essere vivi, quando invece stai dormendo nella sala d'attesa della vita. Ora tu sei più vivo che mai e da lassù sostienici e prenditi cura di noi. Soprattutto prenditi cura di tua figlia Nicola». Per chiudere saluto Gianni e Diana. Vi abbraccio calorosamente e personalmente vi dico grazie.